Allora questo è un video dedicato a quelli come me che hanno già fatto qualche volo in altro quindi non sono proprio i primi passi però diciamo che sono i secondi ecco allora i primi passi credo che tutti li facciamo andando un po su e provando a manovrare il drone sapendo che abbiamo un po di metri di altezza che ci permettono di recuperare la situazione se le cose non vanno proprio come volevamo però poi facendo questi voli a me è successo di accorgermi e credo anche ad altri non lo so ditelo voi comunque sia io mi sono accorto che stando su in alto non ti rendi bene conto se la tua traiettoria è un po in discesa o un po in salita te ne accorgi dopo un po insomma quando hai fatto un po di metri quando ti sei alzato abbassato di una cosa affrettabile e allora mi sono reso conto che forse un buon esercizio poteva essere quello di volare vicino al suolo cercando di controllare l'altezza ecco in questo video vi mostro come faccio io quindi in qualsiasi posto improvvisato scegli degli alberi e ci passi sotto girandoci intorno lo trovo molto utile spero che anche voi lo troviate utile buon volo a tutti ciao a me